Per globalizzazione intendiamo il processo attraverso il quale molti o quasi tutti i principali paesi del mondo liberamente si scambiano le merci. Così come le informazioni girano il pianeta, così anche le merci oggi tendono a girare senza dazi, senza barriere doganali, senza protezionismi. Possiamo produrre in Cina e portare il prodotto della Cina senza che il governo italiano e il governo cinese ci possano togliere del denaro più di tanto. Così come io posso prendere la mia azienda e trasportarla, delocalizzarla in Romania perché tra l'Italia e la Romania i prodotti possono viaggiare liberamente. Questa è la globalizzazione, la libertà di circolazione delle merci attraverso i paesi del mondo.